e bella a tutti ragazzi sono gamer joe e bentornati su un nuovo video di pokemon go bombers allora sono dentro in questo ride di suicune perché è arrivato da qualche giorno quasi ormai una settimana che abbiamo nei ride leggendari suicune infatti non l'avevo ancora affrontato ragazzi infatti non vi ho neanche portato sul canale dei video con appunto protagonista suicune bellissimo ragazzi anche lui possibile shiny ho visto tanti di voi che l'hanno trovato shiny addirittura cos'è un 96 ho visto 98% 100 dv cioè delle sculate avete avuto ragazzi assurde proviamo qui affrontarlo siamo dentro in 5 ho visto allenatori non fortissimi speriamo di riuscire a tirarlo giù in teoria si fa ragazzi in 5 persone però chiaramente bisogna sempre essere con pokemon buoni magari siamo dentro in 10 però se non abbiamo i pokemon super efficaci non facciamo una mazza di niente ragazzi come ad esempio io adesso con mewtwo non so come mai c'ho dentro mewtwo come al solito non ho formato una squadra contro questo pokemon di tipo acqua e quindi chiaramente non siamo super efficaci non diamo grande aiuto alla squadra possiamo dire ai nostri amici allenatori in cui siamo dentro in questo ride vediamo che però scende molto lentamente però va sta procedendo abbastanza bene dobbiamo chiaramente arrivare sempre a metà tempo cioè 150 secondi che la vita è già a metà se non oltre della metà vediamo un po' ragazzi dai vediamo un po' ragazzi ok ce l'abbiamo fatta ragazzi fatta in settimana tantun secondi più o meno poco più vediamo prepariamoci allo shiny check ragazzi come detto è il mio primo suicun l'ho un attimino snobbato da quando è uscito anche perché lo shiny l'avevo già registrato un suicun buono ce l'ho già quindi vediamo un po' dai 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 shiny check leggendario suicun dai dai non shiny non shiny normale 16 64 punti lotta proviamo a lanciare la prima ball ragazzi vediamo un po' dovrebbe essere più o meno come gli altri cani leggendari dai no cosa ho fatto cosa ho fatto ragazzi ancora un po' la stavo andare la stavo buttando la prima premier ball dai no ma cosa succede allora lanciamo così ragazzi lanciamo così chi se ne frega proviamo il primo lancio da schifo assieme infatti non rimane dentro lo provo a catturarlo lo valutiamo ok catturato e ci ha dato anche una caramella l suicun ragazzi tanta roba la prima eccola lì valutazione che schifo ragazzi che schifo dalla sicilia grazie mille allenatore di questo bellissimo invito di un suicun siciliano siciliano terra bellissima e vediamo ragazzi qua come siamo messi abbiamo una missioncina vediamo un po' spoing 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 normale non shiny qua ho le altre missioni ok possiamo prenderci queste raga completato qua completato quindi direi di andare a prenderci allora qua sopra perché no dai dai prendiamoci todos ok qua qua chi l'è chi l'è chi l'è vediamo un po' radar rocket tanta roba ragazzi tanta roba non riesco a completare i requisiti del livello diciamo per salire dal 44 al 45 un'infinità ragazzi chi è? golbat ok un golbat qua abbiamo sconfigge una recluta ancora qui ok che devo sbrigarmi perfetto qua quindi in teoria andiamo a fare lo shiny check di oh oh vediamo un po' eh no qua abbiamo l'arvitar giusto il piccolo larvi che io vado a catturarlo così ragazzi con bacca ananas perché l'arvitar ragazzi come sappiamo è un pokemon abbastanza anzi senza abbastanza molto raro da trovare selvatico e quindi quei pochi che si catturano bisogna andare per forza con la bacca ananas ci ha dato anche una caramella l ottimo peccato che fa schifo ed era normale non shiny vediamo un po' qua ok festeggiamenti di yoto prendiamo qui ok 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 qual è qua sotto ok dobbiamo sconfiggere quindi i tre leader ragazzi e dopo abbiamo lo shiny check di oh oh anche qua devo muovermi avendo snobbato queste cavolo di missioni ragazzi rischio di non completarle vedremo se riesco allora raga completata attenzione invito adesso vediamo completata questa qua sopra che andiamo a prenderci un pokemon misterioso sotto che saprete già tutti chi è e un radar rocket ne ho già uno attivo quindi ne avremo in totale due che servono qua sotto per i leader ragazzi così completiamo anche quella sotto dobbiamo solamente trovare i quelli che ci interessano quasi quasi qua entro ragazzi lo faccio al volo un bellissimo sui kun ecco qua vediamo in quanti siamo dentro attenzione quanti siamo quanti siamo speriamo abbastanza 5 5 e poi questi qua li conosco anche max oscar grandi e lo faccio al volo ragazzi quindi uno shiny check di sui kun così e poi procediamo let's go sui kun shiny check normale normale 16 80 più alto di quello che abbiamo trovato prima allora sierra sconfitta ragazzi senza nessun problema come avete visto nel mio video precedente abbiamo parlato un attimino di come sconfiggere i tre leader vediamo prepariamoci lo shiny check prima avevo già effettuato e arlo con bell doom ragazzi non ve l'ho mostrato perché semplicemente perché lo shiny ombra di bellum ce l'ho già quindi chi se ne frega punto chiaramente su sierra che a carvagna ragazzi ammazza sono abbagliato shiny check carvagna ombra peccato peccato che lui è bellissimo shiny 183 punti lotta ragazzuoli ok andiamo a catturarlo non dovrebbe essere difficoltosa la sua cattura vediamo un po da ammazza ok ok ragazzi preso preso peccato che fa schifo lo vado a trasferire perché così non me ne faccio nulla e qua nei paraggi non abbiamo un cavolo di niente quindi ragazzuoli quasi quasi andrei a prendermi qua il radar perché no almeno ci manca solamente cliff ragazzi che lo affronteremo molto presto e ora dunque andiamo a prenderci le ricompense tac le varie pozioni ragazzi con i revitalizzanti max vediamo qua sotto dai 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 radar rocket importantissimo è apparso un pokemon insolito chi l'è miss drevus normalissimo ragazzi peccato che non è shiny ok quindi qua completato qua sotto il pokemon va bene ci manca come detto solamente cliff ragazzi e poi possiamo andare a fare lo shiny check di oh oh fatemi sapere se a voi è uscito shiny ragazzi dunque raga come primi ride di suicune che ho affrontato dopo appunto quasi una settimana che lo abbiamo nei ride a 5 stelle diciamo che non è andato male il secondo che forse non vi ho mostrato la sua valutazione era un 91% non male diciamo ma chiaramente può uscire di meglio e sicuramente anche shiny sotto nei commentini fatemi sapere se avete trovato oh oh shiny e suicune shiny bombers e per oggi ragazzi da gamer joe è veramente tutto mi raccomando l'iscrizione al canale e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like gamer joe vi saluta e ci vediamo alla prossima ciao bombers iscriviti al canale